Oramai una certezza, Veroli in campo, Auteri anche per te ha speso belle parole, ti aspettavi questa stagione così da protagonista? Guarda, sinceramente è bellissimo stare qua per me, no? Comunque sono partito bene, ritiro a Palena e tutte le partite in cui mi ha fatto giocare, comunque mi ha fatto subentrare, mi sono fatto sempre trovare pronto. Quindi, bene così dai. Ti volevo chiedere una cosa, ti volevo chiedere, a inizio anno 2003, aggregato alla primavera, adesso sei diventato un protagonista e un punto di riferimento per questa squadra, nei tuoi sogni te l'aspettavi? Protagonista no, perché comunque me la gioco con gli altri compagni, quindi non mi sento un protagonista, nel senso potrei diventarlo ma non ancora. E' una bellissima esperienza, perché comunque mi confronto con grandi giocatori, comunque hanno fatto anche categorie importanti e mi faccio sempre trovare pronto. Tu sei ancora più giovane, perché sei giovanissimo e hai giocato in tutti i ruoli, anche in avanti. Adesso fai il braccetto di sinistra, ma nella tua idea preferiresti più giocare a due o a tre? Io mi sono trovato benissimo l'anno scorso con gli ervesi in primavera a due e da quest'anno, diciamo, con la difesa a tre sto imparando molto, perché è il secondo anno che faccio da difensore, ma bene sia a due che a tre. Adesso chiudo con una battita un po' simpatica. Sorrentino poco fa ai nostri microfoni ha detto sogno la Juventus. Veroli cosa sogna? Innanzitutto penso al presente, quindi, come detto anche lui in precedenza... Sorride dietro le telecamere. Riportare il Pescara dove merita e poi il futuro si vedrà. Chiudiamo così, Veroli o Veroli? Perché il mister dice io lo chiamo Veroli. Veroli, però lui è libero di chiamarmi come vuole, ormai lo capisco.